Proseguono senza sosta le attività previste nell'ambito del nuovo servizio di igiene urbana a Corigliano Rossano, avviato lo scorso primo maggio con il sistema di raccolta porta a porta spinto sull'intero territorio comunale. Ecoros ha dato il via alla consegna e installazione presso gli uffici municipali di appositi EcoBox per la separazione di carta, cartone, plastica, alluminio e acciaio. La raccolta differenziata sta andando benissimo all'interno della nostra città, siamo soddisfatti dell'impegno che sta mettendo tutta la comunità, tutti i cittadini, è normale che il passaggio fondamentale è migliorare anche il servizio di gestione dei rifiuti all'interno degli uffici comunali. La partenza proprio da qui oggi ha testimonianza che l'istituzione è l'esempio delle buone pratiche e delle buone condotte, quindi sarà fatta un'attività di informazione e sensibilizzazione dedicata a tutto il personale dipendente degli uffici pubblici per poi proseguire negli altri del resto della città. La consegna degli EcoBox sarà progressivamente estesa a tutti gli uffici pubblici della città. Si registrano risultati importanti nei primi 5 mesi di gestione e si è raggiunto un risultato percentuale del 79%, quindi la direzione è sicuramente quella giusta. Dobbiamo tanto lavorare fuori dagli uffici comunali contro gli abbandoni e il messaggio è proprio questo, di non abbandonare i rifiuti in mezzo alla strada e di continuare a differenziare l'interno delle abitazioni e delle attività commerciali. Ecoros, unitamente all'amministrazione comunale, persegue l'obiettivo di garantire un futuro più sostenibile ed un ambiente più pulito e decoroso, nella convinzione che una cittadinanza attiva e consapevole sia essenziale per il successo delle politiche di tutela ambientale.